La Porta Chiusa è l'ultimo libro di Roberto Melchiorre, pubblicato da Simone per la scuola nella sezione Il Giardino di Marcel. La storia di Mattia, un quindicenne introverso e sensibile, che un giorno si chiude nella sua camera e inizia una reclusione volontaria, decidendo di fare a meno del mondo esterno, è la storia di Uniki Komori, parola giapponese usata per riferirsi ai giovani che, come suggerisce il termine stesso, decidono di stare in disparte, mettendo in atto una forma estrema di ritiro sociale, come spiega l'autore stesso. Questo libro nasce un po' dal mio mestiere, da quello di insegnante, dall'osservazione di alcuni fenomeni come quelli legati proprio a questa patologia, cioè ad un isolamento, ad un allontanarsi dalla vita reale per paura, certe volte per un trauma, e quindi ho pensato che potesse essere interessante raccontare un fenomeno che, nonostante ormai i conti quasi, secondo l'Istituto Veronesi, centomila ragazzi, e non solo ragazzi interessati, è ancora poco conosciuto. Questo fenomeno ha varie scansioni, c'è l'Iki Komori che si chiude totalmente nella sua cameretta, addirittura per anni, escludendo tutto il mondo. Poi ci sono quelli che hanno, come dire, un comportamento che non è così radicale, che però è sicuramente il segnale di un grave disagio, che magari non sono così reclusi, ma che hanno grandi difficoltà ad uscire fuori da questo guscio, da questo cantuccio protetto, che è la casa, che magari è una mamma molto accudente, piena di aspettative. Quindi spesso questi ragazzi hanno paura di non riuscire a soddisfare le aspettative della famiglia. Attorno alla vicenda di Mattia prendono vita i personaggi della storia. I genitori Ada e Mario, Marta, la sorella maggiore del 15enne, Camilla, compagna di classe e fidanzata di Mattia, il dottor Amaldi, psicoterapeuta che aiuterà il giovane Iki Komori con colloqui online, e Goku, amico fidato di Mattia. Questo ragazzino a un certo punto decide di costruirsi con l'intelligenza artificiale un amico, un amico sincero, un amico che non ti tradisce mai, che ti risponde sempre, che è disponibile a qualsiasi interrogativo e soprattutto non ha aspettative. Credo che sia veramente molto molto attuale una narrativa di questo tipo perché c'è l'isolamento, c'è il grande problema del rapporto con i genitori, c'è il mondo virtuale e c'è questo fenomeno che è veramente una rivoluzione incredibile di cui ancora immaginiamo le conseguenze, che è l'intelligenza artificiale. Docente di materie letterarie e scrittore Roberto Melchiorre è autore di numerosi romanzi per ragazzi e sceneggiatore teatrale di importanti opere letterarie. Noi siamo degli animali narrativi, abbiamo bisogno di raccontare quello che ci succede, infatti lo sviluppo incredibile dei soci è legato proprio al fatto che hanno dato la possibilità a tutti di raccontare, di narrare. Quindi la narrazione è uno spazio in cui noi possiamo incontrare i giovani, in cui noi possiamo trovarli, è lo spazio più sicuro per un dialogo e il c'era una volta funziona ancora. Quindi a mio avviso se il libro non si pone come obbligo ma come diceva qualcuno, come un piacere, fondamentalmente c'è ancora tanto spazio per la lettura. I distrattori sono molteplici, ecco perché si legge molto alla scuola elementare, un po' meno alle medie e poi c'è purtroppo questo precipizio che è legato alla tossicità dei social, a altre distrazioni, all'adolescenza e lì dovremmo lavorare molto proprio per riscoprire questo istinto della narrazione ma non più fotografando la pizza Margherita quando andiamo al ristorante ma leggendo un libro.